Allora siamo al 51esimo e il match è sullo 0-0 tra Real Madrid e Barcellona Io che cosa andrò a fare? Andrò a bancare il Real Madrid per 10 euro e a quota 2,98 Perché sto facendo questo? Perché in questo momento della partita non ci sono grandi occasioni Ci sono i capovolgimenti di fronte ma ecco la bancata è stata abbinata Inoltre perché ho scelto queste quote? Perché siamo intorno alla quota tonda 3 E fondamentalmente tra i livelli di prezzo sopra il 3 potete vedere che da 3 a 3,05 ci sono 5 tick E sotto al 3 potete vedere che la differenza tra i livelli di prezzo è 2 Quindi ponendomi una bancata a 2,98 se riesco a farmi abbinare la puntata avrò praticamente 7 tick Quindi intorno a queste quote tonde si ha la massima massimo rapporto rischio rendimento Proprio perché se si riesce a diciamo a bancare a puntare con differenza ad esempio intorno al 3 Si hanno 7 tick invece che averne 4 se lo facessi sotto al 3 Quindi qui si ha maggior rapporto rischio rendimento In questo punto della partita Come potete vedere adesso ho un 5,8 se faccio cash out adesso Un 5,8 euro di gain ma aspetto che la puntata venga abbinata Come potete vedere Fairbot praticamente potete impostare l'opzione di trading Che vi permette fondamentalmente di quando effettuate la bancata Autopaticamente quando questa viene abbinata di praticamente mettere nel mercato anche la relativa puntata Ecco che adesso come potete vedere la palla ce la sta avendo il Barcellona E speriamo che la puntata venga abbinata Come potete vedere il mercato adesso è in stasi, in stand by intorno a questa quota Quota 3 quindi quello che farò io è fare questa operazione Bancare e puntare sempre attorno alla quota 3 Proprio per avere il maggiore rapporto rischio rendimento Ecco che il Barcellona adesso sta facendo un attacco Vediamo se la quota viene abbinata in punta Proprio perché la bancata sarà accettata sotto al 3 Quando la palla ce l'ha il Real Mentre quando il Barcellona prende palla e farà un'azione pericolosa Quindi la quota si alzerà Ecco adesso sta abbinata proprio perché il Barcellona ha ripreso la palla dopo un attacco del Real Come potete vedere in pochissimo tempo da 5.8 sono arrivato a 0.30 in più di profitto Quindi sulla responsabilità totale cale di 13.98 Quindi circa il 3% Adesso rifarò la stessa operazione Proprio perché il match non sta regalando dei tiri in porta Ci sono siti di capovolgimento di fronte Il Real Madrid sta avanzando il baricentro Ecco adesso ho spostato anche la mia puntata verso 3.1 per avere ancora più tic Quindi per avere circa da 2.98 a 3.1 avrò circa 12 tic fondamentalmente Ecco che la nuova bancata è stata abbinata Potete vedere ho sempre la stessa responsabilità totale Che di 13.89 se il Real Madrid dovesse vincere la partita Ma comunque se dovesse segnare un gol Questa Ecco adesso invece Ce l'ha il Barcellona Il pallone, il possesso palla Vediamo se Ecco adesso siamo a 6-1 Potete vedere Adesso ho impostato un'altra Un'altra bancata Vedete sto facendo la stessa operazione tantissime volte Ecco adesso che Praticamente è stata Intanto la puntata Corrispondente alla bancata che ho messo poco tempo fa Viene praticamente Automaticamente inserita nel sistema Potete vedere adesso il profitto a 6.23 Quindi da 5.8 a 6.23 Vedete come in poco tempo si possono Ecco adesso c'è stato il tiro di Il tiro disco E l'apparatona di Ter Stegen Veramente un miracolo di Ter Stegen Quindi adesso probabilmente uscirò dal mercato Perché il Real Madrid Ha alzato il baricentro E adesso c'è stato veramente un tiro pericolosissimo Di disco Veramente un grandissimo tiro E' una risposta incredibile di Ter Stegen Quasi all'incrocio dei pali Che manda in calcio d'angolo Quindi sospetterò che le due puntate Vengano abbinate Per uscire dal mercato Aspettiamo il calcio d'angolo Calcio d'angolo Colpo di testa E c'è ancora calcio d'angolo Ecco adesso la palla Vedete come fondamentalmente quando la palla c'è la Real Madrid È una quota Sott'altra invece quando La quota si alza Quando il Barcellona è in possesso palla Adesso vediamo Se riesco a uscire con Ecco adesso vedete che il Barcellona Adesso è in possesso palla Vedete come il profitto Adesso potrà andare in cash out Con 6.56 Fondamentalmente in circa 5 minuti Ho fatto circa il 6% Proprio perché la responsabilità Ecco il 6.71 Adesso Fondamentalmente Non mi sento di fare altre operazioni Perché il reale si sta facendo veramente molto pericoloso E quindi adesso Per adesso non farò nulla